A settembre ho trovato questo screen, credo su Instagram o su Threads, sembra uno screen di Twitter X, anche se facendo una ricerca oggi con queste parole chiave all'interno dell'account Brad Conn che si vede nello screen non si trovano tweet corrispondenti, però sembra uno screen del 2023 di Twitter in cui l'autore ironizza sul statuto di alcuni influencer, personaggi televisivi, del mondo culturale, imprenditoriale, mediatico, repubblicani, conservatori o dell'alt-right, della destra alternativa americana, in particolare caratterizzati tendenzialmente da visioni complottiste contro il cosiddetto stato profondo, il deep state, ironizza perché sottolinea che invece sarebbero in qualche modo loro stessi appartenenti a questo deep state sarebbero ammanicati con il governo federale, con l'intelligence, le varie agenzie dei servizi segreti, in qualche modo. Ora, secondo me è un post problematico, non vado a ingigantirlo, non è una teoria che circola chissà quanto, anzi, io trovo solo in questo screen evidenze di quello che viene appunto dichiarato riguardo a ognuno di questi personaggi, però è problematico su più livelli. Innanzitutto perché, a prescindere dal fatto che quello che viene scritto sia vero o meno, comunque ha poco senso combattere il complottismo riguardante il deep state creando una nuova teoria del complotto cospirazionista su un altro deep state in cui questi personaggi, Elon Musk, Andrew Tate, eccetera, sarebbero a loro volta presenti. Un conto è sconfessare, invalidare queste teorie del complotto, mostrare che questi personaggi, che possono presentarsi talvolta come appunto paladini, outsider che vengono da fuori, nati dal nulla, oppure appunto la narrazione americana del self-made man, magari non lo sono, hanno dei retroscena familiari, non sono così extrasistemici. Un conto è però andare appunto nell'estremo opposto, e anzi, se vogliamo fare il giro, e ripresentarsi proprio come nuovi complottisti del deep state, tanto che appunto non si parla neanche di grandissimi ammanicamenti, anche fossero vere le cose che vengono presentate, si parla tendenzialmente di essere figli di qualcuno che ha lavorato nell'intelligence o da altre parti. Però il punto è che la quasi totalità delle informazioni presentate in questo post è falsa, per quanto sono riuscito a verificare, quantomeno è senza assolutamente alcuna prova. Per quanto riguarda Andrew Tate, il noto influencer, personaggio televisivo, legato alla Manosphere, a contenuti misogini, viene detto che è figlio di una persona che aveva lavorato nella CIA. Allora, il punto è che il padre di Andrew Tate, Emory Tate, Andrew Tate si chiama in realtà Andrew Emory Tate III, il padre si chiamava Emory Andrew Tate Jr., quindi in realtà avevano lo stesso nome. Dunque, il padre era uno scacchista, uno scacchista che comunque aveva militato nella Air Force statunitense, come sergente scelto, credo sia la traduzione di staff sergeant, e come in particolare linguista, pare essere ricordato, oltre che appunto proprio come scacchista anche all'interno della Air Force. Però appunto suo padre non è nella CIA. A dire che suo padre fosse stato nella CIA è stato proprio lo stesso Andrew Tate, figlio, l'influencer. Questa cosa non è stata mai confermata anche da parte di invece chi ha voluto investigare, chi ha voluto chiedere direttamente informazioni. Insomma, si può pensare a quello che si vuole sulla possibilità di chiedere informazioni a un'agenzia di servizi segreti, ma non abbiamo alcuna prova, e anzi appunto a parlare di questa militanza nella CIA da parte del padre è lo stesso figlio, per cui è difficile delinearla come una militanza segreta che rivelerebbe l'appartenenza di Tate, figlio, al Deep State. Poi si parla di Tucker Carlson, il presentatore noto di Fox News, piuttosto radicale, allontanato poi da Fox News stessa, ormai attivo sui social, su X, mi pare, che ha intervistato Putin abbastanza recentemente. Ecco, di lui si dice la stessa cosa, figlio di qualcuno che ha militato nella CIA. Anche in questo caso il padre di Tucker Carlson, che è Dick Carlson, non è mai stato nella CIA, era un giornalista e un diplomatico, era entrato in politica, si era candidato alle elezioni di San Diego nell'84, aveva perso. È vero che era stato direttore associato della US Information Agency, che è un'agenzia governativa, e anche direttore della Voice of America, che alcuni critici, alcuni autori considerano essere stato quantomeno storicamente uno strumento anche di propaganda americana, ma si ferma qui l'avvicinanza governativa di Dick Carlson. Poi si parla di Alex Jones, famoso podcaster legato a teorie cospirazioniste o in generale fake news, è andato a processo. Ecco, Alex Jones viene definito qui invece parente di qualcuno che aveva lavorato nella military intelligence, nell'intelligence militare. Anche qui io non ho trovato assolutamente alcun riferimento da nessuna parte. Lui è figlio, risulta di un dentista e di una casalinga. La cosa più vicina è il fatto che abbia assunto delle spie per spiare appunto l'ex moglie, a un certo punto si è scoperto, ma nulla di più, nessuna familiarità, nessuna parentela con membri dell'intelligence militare, almeno non che io abbia potuto trovare. E infine di Elon Musk, ecco, l'unico di cui si dice qualcosa di vero, ma anche qualcosa di abbastanza generico e banale, che è un grosso contractor dell'industria militare, quindi qualcuno che ha dei contratti, in questo caso immagino il sottotesto sia con agenzie governative federali statunitensi, per esempio con la NASA, ma appunto è qualcosa di abbastanza banale e generico. Per cui anch'io posso condividere la critica alle opinioni espresse da questi quanti sono quattro personaggi e posso ritenerli ipocriti, posso ritenerli ipocrita e appunto da falsificare, da sfatare la retorica di paladini, outsider, self-made man, fuori dal sistema, però senza creare una nuova teoria del complotto e soprattutto senza basarsi su informazioni false.